c'è un problema che abilità è messo al kn al topo e indovinato alti forni forni cuocenti bollenti che poi non capito come sia possibile tutto questo cioè come fanno ad uscire dei proiettili si è un pochi d'artificio oppure contenenti fuoco se non sono mi sa che sal ce la fai la faccia fa è morta anche vicino a me mi lagga ti lagga io temporeggio un attimino vai vai io temporeggio qua il malloppo tu e anima si si no malloppo ciao sal porca troia non sparare sempre con quel cazzo di mustang attento c'è un cane aspetta te lo ammazzo eh ci sono anche i 700 monti da un po' ho finito le muni ecco perchè mi cambiava no mi cambiava arma se puoi evita di sparare con le mustang boom 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 vedo che il messaggio è arrivato no te l'ho detto ho finito le munizioni del kn facevo per sparare mi cambiava arma e sparava automatico quindi ok eh sono morto c'è un instant qui striscio 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 voglio dire io giovani siamo senza il jug vabbè hai sempre il sogno no no cazzata no eh sal io mi metto al tuo posto gira tu perchè non ho il jug si si hai ragione vai 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 perchè non ha molto senso che l'hai al tuo forno si 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 ho il forno che muovi bellissimo l'unione tra fuochi d'artificio e al tuo forno hai visto si si ho finificata fuochi di forno fuochi d'artificio al forno bella sal è stato un piacere giocare con te ti rianimo eh gionno una brutta notizia per te stai per morire no 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 tranqui c'ho anche tu hai la gabogam ma l'abbiamo usata contemporaneamente eh si perchè immaginavo che gli zombie sarebbero arrivati tutti da me eh si infatti mi stavano arrivando e ero posto quindi siamo tutti senza jugger ragazzi si inizia a diventare oh interessato e non ho più neanche la torre e non ho più neanche la torre e non ho più neanche la torre e dove sono uscito wasabi eh ero morto ho visto la morte negli occhi e ci ho riso e ci ho riso così sal perchè vedo monkey no l'ho buttato io ah ok sei giustificato povero sal si è o john signore no perchè una ci sta due tre cazzo allora c'è qualche problema di comunicazione tra di noi e non è che eh via 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 SAS questo quando si voleva trasportare però ci sono bruciati non corre cani oh i cani che culo no beh questo è culo ragazz ventisettesimo round ragazzi eh eh ci sta oh yes yeah yeah stó finendo i punti Cosa? Cosa hai detto? Scusa! Jugger no che sia No no aiuto 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 Spara sal, spara se prego di me Mi stanno bloccando Eh, ero un attimino rosso e con una bandia di cani al culo Vi ricordo così se non avete gobblegum fatevi il giro di gobblegum Si, grazie Uh, I'm feeling lucky ragazzi Eh, what's up? Portatemi buona fortuna, vediamo che ci esce Ah, ok Una bomba Ok Ci ho messo un attimo a capire che avevi preso la gobblegum Uh, munizioni Che cazzo c'era? Che cazzo sta successe? Ancora? E' perchè sto usando la gobblegum Ah, in feeling lucky, mi sento fortunato Nooo, mi ha usato questo Ragazzi correte, l'ho usato io Si, cavolo Ragazzi, Km, ragazzi, Km, cosa? Ah, ma io pensavo che ognuno lo può usare una volta No, forse ho usato il secondo troppo quando già inizia del round Si, 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 giusto Non capito cosa è successo La gamma dei doppi punti, ho bene, ma non so quante utile Anzi, è nulla adesso Inveni a tenerlo, allora, vabbè Non ho capito cosa è successo tuttora Ma va bene Stavo utilizzando la gobblegum mega Velocemente per prenderne un'altra ventottesimo, però l'ho usato troppo tardi e non ma fa prendere Si, gli ha scoccato il round e non l'ha fatta, ho capito Ho capito E ho spiegato due Per questo mi sono uscite le munizioni, capito? Che c'evo la gobblegum mi faceva spawnare di così a caso Oia Eh, sono rosissimo, sono rosissimo Vai via via Emozionato Si Io cerco di ammazzare i cani prima Si, è una cosa buona e giusta Bella la Oh, è maximo Spariamo, spariamo, speriamo come se non ci fosse un domani Ok, io lo sbarco, io lo sbarco Bastardi Ho paura di andare a terra sparando come se non ci fosse un domani Ah, il cane, cane, cane Ahem, ahem Eh, sparavo solo Sal Che rapporto abbiamo con queste Mustang e Sally? Si, si Che rapporto abbiamo con queste Mustang e Sally? No, 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 no C'erano zombie che mi passano davanti mentre sparavo a raffica Ovviamente ero lì a girare e mi trovo una banda di monkey fatta da Sal che si divertiva a sparare come un forsennato perché c'era Max Ammo Vabbè, c'era anch'io che sparavo come una Eh, quindi Come la mettiamo? Come la mettiamo adesso? Cioè, siamo visti un po' brutta lì Si Bastardi Eh, chi mi dà il cambio? Ah, vero, io, 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 io Mettiti qua Però comunque anche qua sta cominciando Vabbè, se no ci vado io, raga Ah, ok, vai tu allora, dai, va a Sal che all'Onspia Si, si, vado io Qua è Sal Eh, come eravate divisi qua, tu giravi Mamma mia Eh, no, Giorno, 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 mi sa che conviene che tu resti... Aaaaaaah Oddio, mondo crudele No, 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 no Eh, si, vabbè, siamo Eh, si, vabbè, siamo Salve, Giorno, se riesci io la capo campi e non mi cagano Vai, vai, vai L'ha gusto? Ok, l'ho usata Ok Ah, eh Ma gli zombie dove sono finiti? C'era il bordello di zombie C'è, c'è, non sto capendo niente Eh, che hi Siamo leggermente disorganizzati in questo momento Sì, abbastanza Disorientati e disorganizzati Sappiamo solo che siamo al round 28 Eh, tecnicamente comunque è duro sto round, eh È duro Sì, sì Considerando che non possiamo andare a riprendere il jug se non a fine round Eh, chi è che è il jug? Sono John, no? Cazzo Mi sa di sì Eh, sto girando qua Eh, John è presente come ti dicevo, poi mi ritroverò a dire non mi bastano i punti per il jug, no? No L'ho presa? Che culo, ho preso con la coltellata Sì Sì Credo Sì, si se non è finito Sono andato con convinto sicuro io, eh Occhio, 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 occhio Ora è finito No 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 No, no, no ma io li vedo che arrivano sono rosso e faticano un attimino a morire senza double tap e senza andare a un cazzo mamma mia mi vado a prendere double tap al prossimo salse vuoi puoi usare la mustang con me si è devi anche colpi della mustang cioè quasi tre colpi sono gli ultimi sono gli ultimi sicuro sembrerebbe di si ci siamo così e sparatevo io cavolo nooo sapevo corri corri infatti stavo per dire chi è che non ha abilità i cosi eh lo sapevo i fuochi d'artificio si rilevano devastanti dai un altro round è vero siamo al 29 mamma mia è una data che ho come beve alla goccia eh no mi sa che la double tap non la riesco a prendere cazzo dove sei un'altra non so ne anch'io come c'è successo no 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 mi devo fare il round in giro eh come ci dividiamo eh john mi sa che è meglio se tu resti qua vicino a casa merda ah io giro c'è un problema cosa eh non mi basso nei punti per comprare munizioni e ne ho poche cazzo cazzo dai un altro round regalo cazzo altro che cazzo da cazzo orco cane eh eh spara un po' no mi sono buttato solo a terra però ucciso un'orda intera lo sai che sono la chiave chiusura eeeh 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 mustang come stai messo cosci sennò viene al posto mio eh quello è bene o male ce l'ho eh viene al posto mio e spari con le mustang cos'era quell'urlo john non corre parami parami john ok le ho comprate le ho comprate le ho comprate ah ok ok eh fortuna che al tuo forno meno male a volte se spari poco su un gruppo ti fai 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 aspetti ti fai un bel po' di punti si cioè ti rendi conto che ho accumulato di zombie dentro la finestra mamma è mostro nel senso che no nel senso che riparavo finchè non si è fatto un bel gruppetto eh si no eh ho capito il capito si si eh sta all'esco? le esco? no eh no ce la dovrei fare parami un attimo c'è la bomba sto sparando da sotto da sotto con le mustang ma ecco la bomba un attimino se dai al 30 almeno ci voglio arrivare si dai forza ormai un obiettivo personale finire al 29 non si può effettivamente sarebbe un po' brutto voi ce ne avete si 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 arrivano arrivano arriva arriva andale andale muni 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 si oh ok va bene ci sono passati in mezzo sententemente si ho visto la scena da sotto John oprami un attimo John ce la fai? secondo me ci fotte il fatto che non abbiamo scimmie eh ci fotte tanto eh ma abbiamo fatto tante casse però eh si si no lo so è stata sfiga eh con le scimmie cavolo si in effetti muni eh avevamo tiravamo scimmie ah ok no no nel senso se c'erano le muni se c'erano le muni tipo potevamo tirare scimmie nooo non ce l'ho fatto io mi sono uno straziato John opri mi John Comunque è duro girare qua senza Jugger E' vero Ma scusa ma perchè non gira Sal Eh ma infatti dai Ah ma ce l'hai Giugger Invertisemi Perché stai girando tu No ma poi non vorrei morire io Io vedevo John muore John muore Pensavo che fossimo tutti senza No se solo tu non hai perduto Eh no vedi ora muoio io Ok grazie Comunque fuochi d'artificio è devastante lo devo dire Ha ucciso un'orda intera Si Me ne aveva scritto un ragazzo me l'aveva scritto Su old gen Prendi fuochi d'artificio era come alto forno E' uguale Perché esce tipo l'arma e non c'è a sparare Guarda Mamma mia è vero Si però l'arma è fissa capito Invece alto forno segue gli zombie Alto forno e alto forno dai non scherziamo No è vero Eh sono un attimo qua per prendere munizioni Ora me ne torno nel bunker Nel bunker dell'amore Mica ma Problema di girare qua Il problema di girare qua Porca troia occhio 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 dietro dietro Eh un attimo mi esoscivo da quel cazzo di bunker di merda Eh c'era già Saga sugli ultimi ragazzi No 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 cazzicuro No forse si forse si No 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 Non ne vedo all'orizzonte che arrivano No arrivano arrivano Purtroppo arriva Siamo al 29 in 3 Ancora Se ne vuole un pochettino Non ne vedo all'orizzonte che arrivano Grazie.